Ancora Giavoronok dai 9 metri, ancora a forzare, Erizz! Ancora Jacopo Votto in battuta con Monza che adesso ci crede sul 19.16 il missile. La ricezione di Manavi, che ricezione spirito per voi e il muro di Donovan Giavoronok! La battuta adesso è la ricezione di Giavoronok, palla molto vicina a rete, diagonale stretta di Giavoronok, che tira fuori il braccione delle grandi occasioni. Ricezione di Manavi, poi va ad attaccare Shari, fin contro tempo, che guisto di Orduna in difesa, Giavoronok! Diagonale strettissima! Ancora una grande azione della vera Volleyball. Grazie a tutti!